In una scuola come il Rossellini si impara a diventare dei buoni tecnici ma ovviamente si impara a diventare anche delle buone cittadine e dei buoni cittadini e da questo punto di vista l'impegno è notevole perché gli studenti del Rossellini accompagnati dai loro professori, dai loro docenti partecipano alle iniziative e progetti vari, oltretutto Rossellini non è una scuola che ha un suo territorio di riferimento ma pesca trasversalmente e tra diverse condizioni sociali quindi è essa stessa una scuola dove si fa una bella attività comunitaria quindi fondamentale importanza che poi verrà tradotta nella professionalità di domani, nella capacità di comunicare in maniera efficace e di comunicare anche il sociale. Un centro di medicina universitaria che è attaccato proprio al campus biometrico e per ospitare questi anziani, questi uomini anziani che hanno bisogno di assistenza e di infermieristica. La posa della prima pietra avvenne qualche anno dopo la fondazione che avvenne nel 92 e i risultati concretamente sostegno alla ricerca applicata alla condizione degli anziani, ricerca di carattere sanitario eminentemente ma anche socio sanitario e sociale. Attualmente nel territorio intorno a Trigoria dove sorge il campus biomedico ora da poco abbiamo sottoscritto e stipulato una proprio un contratto d'intesa con la stessa università campus biomedico di Roma per la realizzazione in quel territorio di concrete realtà di servizio in favore degli anziani. Con la campagna di comunicazione Reframe Africa AMREF intende sensibilizzare il pubblico italiano sull'Africa come un continente in movimento, un continente che deve essere sostenuto nei suoi sforzi di sviluppo ma senza petismi, senza vittimismo, lontano da qualsiasi tipo di stereotipo perché l'obiettivo è quello di parlare di Africa con uno sguardo africano, noi siamo africani, vogliamo che sia una comunicazione estremamente degnitosa ma anche molto ironica, molto anticonvenzionale, molto diversa dalle altre. Bisogna continuare ad investire nell'Africa perché se è vero che la curva dei dati dal 2000 ad oggi ha subito un declino di alcuni indicatori di malattia e povertà come la mortalità materna infantile è anche vero che però registra dei dati ancora drammatici e se continuiamo così non riusciremo a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio. La fondazione con il Sud esiste da 12 anni ma fino al 2011 si chiamava fondazione per il Sud. La fondazione interviene nel mezzogiorno come si intuisce dal nome ma non per il Sud ma con il Sud quindi non facciamo interventi per qualcuno quindi in un approccio più assistenzialista ma con qualcuno, anzi con tantissimi perché in questi anni abbiamo sostenuto e abbiamo realizzato insieme a oltre 6.000 organizzazioni differenti tra terzo settore, istituzioni locali, scuole, università e cittadini oltre mille progetti e quindi fare, lavorare con qualcuno è il primo elemento per costruire veramente dei percorsi di coesione sociale nel mezzogiorno. Vendere o erogare servizi di qualità, essere trasparenti, contribuire a creare un buon mercato. Oggi oltre a queste tre variabili se ne aggiunge un'altra che è quella della sostenibilità consumeristica il che significa essere una buona azienda vuol dire sviluppare buone pratiche anche nel discorso dell'orientamento al consumatore, nella qualità, nella sicurezza, nella trasparenza dell'informazione. Quindi oggi sono i consumatori che vogliono società responsabili. I numeri della responsabilità sociale sono quelli delle settimane dell'anno, 52 settimane e per ogni settimana la RAI, Servizio Pubblico, manda in onda una raccolta fondi, uno spot e una campagna di sensibilizzazione. Cioè ogni settimana tre soggetti della società italiana, Onlus, ONG, fondazioni, comunque soggetti della partecipazione attiva hanno la possibilità importante di accedere agli schermi o alla radio del servizio pubblico. È un'attività che deve interessare molto anche i giovani, in particolare i giovani che si occupano di comunicazione come gli studenti del Rossellini perché non basta più oggi nella quantità di messaggi sociali di grande densità civile sociale, non basta più la virtù, non basta più affermare la virtù. Serve anche che questo messaggio così carico di impegno civile sia anche veicolato con una comunicazione efficace, capace di farsi ascoltare, di rompere il muro della consuetudine, di catturare l'attenzione dello spettatore o dell'ascoltatore.